cari miei amici sono qui sul panca da stamani non lo so quello che sta succedendo comunque sono sono molto triste e disperata perché ieri sera ho visto telegiornale e telegiornale fa paura perché telegiornale con questa musica con questi che fanno telegiornale hanno voce molto molto seria e proprio fa spavento ieri un pochino ho visto qualcosa ho visto qualcosa dopo telegiornale dopo le 9 guardato tutti i canali io guardo tre canali tre canali in tre lingue e proprio disperate non c'è più ucraina tutto distrutto distrutto io già non parlo di questi uomini morti ma palazzi cultura c'è cultura ci sono chi è una città europea molto europea non potete immaginare come barcelona come come qualsiasi città bellissima chi è stato in chi può immaginare quanti locali quanta gente quanta gioventù era era vita proprio vita 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 non è rimasto niente io sono dalle opoli che qualcuno se qualcuno mi guarda per la prima volta io sono dalle opoli dove venuti tutti i profughi ce li ho la casa anche la dalle opoli ma poi sono preoccupata molta per futuro per futuro di italia di tutta europa guardato altri canali russo ieri sera ancora questo canale si poteva vedere si chiama russia 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 1 1 così con no no con cifra e ieri ancora parlavano loro molto 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 interessante quello che loro parlano e loro parlano tutta europa contro europa ucraina quasi non dicevano a europa aiuta a ucraina aiuta loro vogliono europa a biden è quello è quello contro biden contro ucraina ucraina no contro europa era uno io molto molto preoccupata perché loro molto arrabbiati stamani ora aperto questo canale non c'è più e c'è scritto nel tuo paese questo video non si può vedere ecco così hanno cancellato hanno isolato tutta tutta russia ho paura di di aprire tele guardare telegiornali stasera proprio paura ma paura che succede che succede che futuro sarà che domani dopodomani come sarà io proprio tanto preoccupata vi saluto tanto cari amici bisogna pregare pregare perché si sta rovinando tutto mondo disperata sempre peggio sempre peggio scusate non posso fare altro video più allegro più divertente saluto ciao